Ci troviamo all'interno della scuola elementare Minzele, si diceva una volta, adesso sono istituti comprensivi, c'è il dirigente scolastico, il professor Franco Tricase, la professoressa Martellotta, che mi dicono essere la vicaria in questa scuola, non so se il termine sia appropriato. Siamo venuti ad incontrare non solo gli insegnanti, ma anche le famiglie e gli alunni, perché sono impegnati in questa grande impresa, cioè la scuola nel periodo natalizio diventa un grande presepe. Adesso cercheremo di capire meglio, lo abbiamo già compreso o lo comprenderemo dalle immagini, però ci facciamo spiegare meglio come nasce questo progetto, qual è il messaggio che vuole lanciare e in qualche modo anche qual è la finalità didattica che è insita proprio in questo grandissimo lavoro. Allora, professor Tricase, cerchiamo di dare così un'apertura per far capire come siete arrivati a pensare di dedicare l'intera struttura scolastica, farla diventare un contenitore, un grande presepe sostanzialmente. Sì, sostanzialmente è un lavoro che va avanti da diversi anni, questo è il terzo anno se non sbaglio, per cui è stato un crescendo in un certo senso. Il Natale, che è una delle feste più importanti dell'anno, la più partecipata dalle famiglie, ci è sembrato l'argomento giusto per affrontarlo didatticamente. E come fare? Abbiamo coinvolto un po' tutti, sia gli insegnanti, ma soprattutto i genitori. Ecco, è stato un modo per coinvolgere le famiglie, per aprire la scuola alle famiglie. E allora è un progetto didattico come tanti, extracurriculare, che il collegio di docenti approva sempre all'inizio dell'anno scolastico, dopodiché c'è una prima fase di approfondimento di studio nelle varie classi che parteciperanno, che poi sono tutte le classi del plesso, e poi si passa anche al coinvolgimento dei genitori. Per cui ci è sembrato giusto coinvolgere tutti. E' uno dei pochi progetti che coinvolge tutta la comunità scolastica, tutti gli alunni, tutti i genitori e tutti gli insegnanti di questo plesso, da scuola primaria e menzile. Per cui sono oltre 400 alunni, sono oltre centinaia e centinaia di genitori, e poi tutte le docenti, una quarantina, insomma, il personale ATA. E' molto coinvolgente e poi il tema cambia di anno in anno, cioè Natale visto da diversi punti di vista. Quest'anno è l'anno della globalità, di come si festeggia il Natale nei diversi continenti, e soprattutto la natura. Seguendo anche l'insegnamento di Papa Francesco, ci è piaciuto, insomma, riprendere i suoi messaggi, cioè difendere il creato, valorizzarlo e portarlo avanti nel modo migliore, per preservarlo. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo voluto dare. I bambini sono molto bravi, molto partecipativi, anche le famiglie, per cui il percorso è chiaro. E soprattutto il bello è che, appunto, coinvolge tutto l'Istituto. Sono tre piani, tre piani interi, diciamo, addobbati, con maestria e con classe, anche con bravura, insomma, artigianale. Tutto fatto con materiale riciclabile, peraltro. Ecco, la cosa bella è che tutto materiale riciclabile, cioè proprio a difesa del concetto dell'ambiente. Io credo che per Puttignano, per la comunità scolastica della Minzele, è un grande lavoro, un grande impegno, però è anche un motivo di grande soddisfazione. Noi siamo convinti che i nostri bambini con questo progetto si arricchiscono perché partecipano, crescono, condividono, stanno insieme. Insomma, è un progetto veramente importante. Un ottimo collante anche per le famiglie, perché, avete visto, sono coinvolti direttamente i genitori, i familiari addirittura si prestano, oggi notavo, a fare il servizio d'ordine per, diciamo, organizzare questo percorso che conduce poi i visitatori ad ammirare queste meraviglie che i ragazzi e con la scuola hanno realizzato. Visto che c'è anche la professoressa Martellotta, entrerei un attimo nell'ambito tecnico, cioè che tipo di realizzazioni hanno fatto, oltre a quello dei costumi, che ovviamente balza immediatamente all'occhio, però sono state realizzate scenograficamente anche delle strutture vere e proprie per decorare gli ambienti. Vedevo anche particolari, come mi faceva notare il dirigente Tricase, particolari realizzati in carta pesta. Quindi ci sono anche dei dettagli fondamentali che andrebbero messi in risalto. Nella zona di San Francesco ci sono tanti presepi realizzati con materiale povero, quindi cartoncino, cartone pressato, i bambini hanno incollato le varie parti e hanno, utilizzando anche terra, tutto materiale che hanno portato e che avevano a casa, quindi realizzando questi piccoli presepi che poi sono stati esposti lungo i corridoi. Poi salendo, quindi nella zona più alta, quindi del Polo Nord, della Norvegia, abbiamo tutti i paesaggi realizzati sempre con cartoncino colorati in parte dai bambini, in parte dai genitori. Continuando ancora abbiamo la slitta di Babbo Natale, abbiamo i biscottini fatti dai bambini a casa. Si scende poi lungo il Messico e abbiamo le famose pignata che i messicani utilizzano, le appendono a modi delle nostre pentolacce riempite di caramelle, i bambini si divertono a romperle e quindi raccolgono questi cioccolatini che hanno a disposizione. Nella zona poi dell'Africa hanno realizzato tutti i costumi, dei disegni particolari che vanno in profondità e riprendono un po' quelle che sono sempre le usanze degli africani. Si conclude poi il percorso con l'Australia dove i bambini hanno preparato una scenografia sempre in cartoncino, cartone pressato che rappresenta proprio il mare e lì poi vediamo che è stato abbellito con i surf che si usano in quelle zone. Noi proseguiamo la nostra esplorazione all'interno di questa meraviglia e io vi saluto con questo gadget simpaticissimo anche questo realizzato da uno degli alunni e un biscottino quindi anche commestibile porta il nome di colei che l'ha realizzato che sia di buon auspicio per queste festività. Grazie. 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 Grazie.